Tra le lezioni video presenti in questo canale YouTube ci sono anche delle lezioni in cui noi del gruppo tedesco facile ci siamo occupati degli aggettivi qualificativi di uso comune, cioè degli aggettivi che vengono usati spesso, che usiamo quasi ogni giorno, ad esempio bravo, forte, debole, stanco, ecc. Bene, nella prima parte di questo video ripasseremo alcuni di questi aggettivi qualificativi e, attenzione, vi mostreremo anche un metodo che noi riteniamo molto utile per memorizzare un gruppo di parole. Nella seconda parte, invece, formuleremo delle frasi con gli aggettivi qualificativi utilizzando il verbo essere. Gli aggettivi che ripasseremo in questo video sono 12 e sono i seguenti aggettivi qualificativi. Bravo, gut Capace, feich Cattivo, slecht Malvagio, böse Forte, stark Robusto, kreftig Debole, schwach Fiacco, matt Veloce, schnell Svelto, flink Lento, langsam Pigro, faul Iniziamo dai primi quattro applicando il nostro metodo di memorizzazione. Bravo, gut Gut Bravo, gut Gut Un sinonimo di bravo è Capace Capace Feich Feich Capace Feich Feich Il contrario di bravo è Cattivo Cattivo Schlecht Schlecht Cattivo Schlecht Schlecht Un sinonimo di cattivo è Malvagio Böse In tedesco però Böse può significare sia cattivo che malvagio Malvagio Böse Böse Malvagio Böse Böse Provate a ripeterlo svariate volte ma nulla, non riuscite a memorizzarlo. Ora, per risolvere questo problema immaginiamo un oggetto che assomiglia al suono vocale di questa parola. Ad esempio, la fede, inteso come l'anello nuziale, che è costituito da un semplice cerchio d'oro. Colleghiamo quindi l'immagine della fede con la parola capace e poi con la parola feich. Fede e feich iniziano con il suono fe, quindi fe-de, fe-ich, fede, feich. Collegate alla parola capace l'immagine della fede per ricordare la parola feich. Ripetiamo ancora. Fede e feich iniziano con il suono fe, quindi fe-de, fe-ich. Ora, tenendo impressa nella mente l'immagine della fede, ripetiamo. Capace, feich, feich, feich. Nel processo di memorizzazione, a prescindere dal metodo che si usa, è indispensabile ripetere tante volte, quindi bisogna avere molta pazienza e ripetere svariate volte ogni nuova parola che dovete memorizzare. Capace, feich, feich. Ovviamente noi sappiamo che l'aggettivo italiano capace non corrisponde all'immagine della fede, ma fare finta che sia così ci dà la possibilità di legare la parola feich all'immagine dell'anello nuziale. Quindi pensare all'anello nuziale, cioè alla fede, ci dà la possibilità di farci venire in mente la parola feich. Ripetiamo ancora. Capace, feich, feich. Dopo tutte queste ripetizioni, memorizzando bene anche l'immagine della fede, penso che sia impossibile per chiunque non essere riuscito a memorizzare la parola feich. Ora, questo metodo magari può funzionare per alcuni di voi, ma per altri può risultare un ulteriore ostacolo nella memorizzazione di nuove parole, in questo caso nella memorizzazione di alcuni aggettivi qualificativi. Quindi noi vi consigliamo di trovarvi un metodo tutto vostro per memorizzare nuove parole. Detto questo, proseguiamo con il nostro metodo. Passiamo ai prossimi 4 aggettivi qualificativi e vediamo quali tra questi può risultare difficile da memorizzare. L'opposto di forte è debole, debole, svach, svach. Un sinonimo di debole è fiacco, fiacco, matt, matt. Debole, svach, svach, fiacco, matt, matt. Di queste quattro parole diciamo che, per esempio, vi risulta difficile memorizzare due aggettivi. Stark è kreftig. Provate a ripeterli svariate volte, ma nulla, non riuscite a memorizzarli. Ora, per risolvere questo problema, utilizziamo lo stesso metodo di cui sopra. Iniziamo con l'aggettivo qualificativo Stark. Dobbiamo immaginare un oggetto che ci faccia ricordare questa parola. Immaginiamo quindi l'astronave di Star Trek e memorizziamo bene questa immagine, legandola alla parola forte. Possiamo anche far finta che esista il modo di dire forte come l'astronave di Star Trek. Stark, in effetti, è la contrazione di Star Trek, in cui nella parola Trek si tolgono le prime tre lettere. Quindi, immaginando l'astronave di Star Trek, ripetiamo svariate volte. Forte, Stark, Stark, Stark. Ora, passiamo all'aggettivo kreftig. Robusto, kreftig. Robusto, kreftig. Utilizziamo come immagine la creta e inventiamo un falso modo di dire. Essere robusto come la creta. Quindi, pronunciando la parola robusto, noi immaginiamo la creta, di cui le sue prime tre lettere sono uguali nel suono, alle prime tre parole di kreftig. Kre-ta. Kre-ftig. Ora, tenendo fissata nella mente l'immagine della creta, ripetiamo svariate volte. Robusto, kreftig. Robusto, kreftig. 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 Essere robusto come la creta. Robusto, kreftig. Kreftig. Passiamo ora ai prossimi quattro aggettivi qualificativi e vediamo quale di questi può risultare difficile da memorizzare. Un sinonimo di veloce è svelto, flink. Svelto, flink. Flink. L'opposto di veloce è lento. Langsam. Langsam. Lento. Langsam. Un sinonimo di lento è pigro. Foul. Pigro. Foul. Foul. Pigro. Foul. Di queste quattro parole diciamo che, per esempio, vi risulta difficile memorizzare due aggettivi, flink e foul. Iniziamo con l'aggettivo qualificativo flink. Dobbiamo immaginare un oggetto che ci faccia ricordare questa parola. Immaginiamo il disegno di un flipper e inventiamoci un modo di dire, ad esempio, svelto come un flipper. Le prime tre lettere di flink e flipper sono identiche. Ora, tenendo in mente l'immagine del flipper, la colleghiamo alla parola svelto e poi alla parola flink. Svelto, flink. Flink. Svelto, flink. Io sono svelto. Svelto come un flipper. Io sono flink. Ich bin flink. Svelto, flink. Svelto, flink. Ora passiamo all'aggettivo qualificativo faul. Dobbiamo immaginare un oggetto che ci faccia ricordare questa parola. Immaginiamo il disegno di un fauno e inventiamoci un modo di dire, ad esempio, io sono pigro come un fauno. Le prime tre lettere di faul e fauno sono identiche. Io sono pigro. Pigro come un fauno. Io sono faul. Ich bin faul. Pigro, faul. Faul. Pigro, faul. Ora passiamo alla seconda parte per ripetere gli aggettivi qualificativi con il verbo essere. Bravo, gut. Io sono bravo. Io sono bravo in filosofia. Io sono bravo in filosofia. Tu sei bravo. Du bist gut. Tu sei bravo a tennis. Du bist gut im tennis. Capace, feich. Noi siamo capaci. Vi sind feich. Noi siamo capaci in tutto. Noi siamo in tutto capaci. Vi sind in allem feich. Cattivo, schlecht. Marco è cattivo. Marco ist schlecht. Malvagio, böse. Luca è malvagio. Luca ist böse. Luca è stato malvagio. Luca war böse. Brigitte è forte. Brigitte ist stark. Lui è debole. Er ist schwach. Io mi sento debole. Ich fühle mich schwach. Io mi sento improvvisamente debole. Ich fühle mich plötzlich schwach. Mark e Sebastian sono molto robusti. Mark und Sebastian sind sehr kräftig. Essere spossato dalla fame. Dalla fame, fiacco, essere. Hunger mag sein. Veloce, schnell. Io sono veloce. Ich bin schnell. Svelto, flink. Lui è svelto. Er ist flink. Veloce, schnell. Ma anche l'avverbio velocemente viene tradotto con schnell. La notizia si propagò velocemente. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Il suo battito cardiaco è lento. Sein Herzschlag ist langsam. Pigro, faul. Il ragazzo è pigro. Der junge ist faul. Bravo, gut. Io sono bravo. Ich bin gut. Io sono bravo in filosofia. Ich bin gut in filosofii. Tu sei bravo. Du bist gut. Tu sei bravo a tennis. Du bist gut im tennis. Capace, feich. Noi siamo capaci. Wir sind feich. Noi siamo capaci in tutto. Noi siamo in tutto capaci. Wir sind in allem feich. Cattivo, schlecht. Marco è cattivo. Marco ist schlecht. Malvagio, böse. Luca è malvagio. Luca ist böse. Luca è stato malvagio. Luca va böse. Brigitte è forte. Brigitte ist stark. Lui è debole. Er ist schwach. Io mi sento debole. Ich fühle mich schwach. Io mi sento improvvisamente debole. Ich fühle mich plötzlich schwach. Mark e Sebastian sono molto robusti. Mark e Sebastian sono molto robusti. Essere spossato dalla fame. Dalla fame. Fiacco essere. Hunger might sein. Veloce, schnell. Io sono veloce. Ich bin schnell. Svelto, flink. Lui è svelto. Er ist flink. Veloce, schnell. Veloce, schnell. Ma anche l'avverbio velocemente viene tradotto con schnell. La notizia si propagò velocemente. Die nachricht verbreitete sich schnell. Il suo battito cardiaco è lento. Sein Herzschlag ist langsam. Pigro, faul. Il ragazzo è pigro. Dea Junge ist faul. Ora facciamo la traduzione al contrario. Io vi dico un singolo aggettivo qualificativo in tedesco e voi lo traducete in italiano. GUT Veicchio, figh, slecht, boze, stac, stac. Forni. Kräftig. Mat. Mat Jnel Flink Langsam Foul Flink 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 Flink